E' stato inaugurato stamani il nuovo centro oculistico diagnostico per la prevenzione della cecità ubicato presso i locali della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a Ragusa. Il centro diagnostico, che si è arricchito di nuove attrezzature oftalmiche, moderne, all'avanguardia e a disposizione di tutta la cittadinanza della provincia. Assicura visite in tempi brevi e si avvale delle prestazioni professionali di medici che collaborano con la clinica oculistica del Policlinico dell'Università degli Studi di Catania. Praticamente è sorto per dare una maggiore possibilità a tutta la cittadinanza e soprattutto creare nella mentalità di tutta la cittadinanza l'importanza della prevenzione della cecità. Per la verità qui nel nostro centro oculistico oltre a fare la semplice prevenzione della cecità adesso siamo attrezzati per fare delle visite oculistiche e ortottiche approfondite molto molto ben fatte. Abbiamo dei professionisti in gamba, abbiamo un ortottista in gamba e quindi mettiamo a disposizione di tutta la cittadinanza questa nostra struttura. Adesso si fanno visite non solo di prevenzione ma di diagnosi e arriviamo però anche a fare riabilitazione. Cosa importante è che qui nel nostro territorio non si fa, si fa la riabilitazione solo per i bambini, per gli strabismi. Adesso faremo anche riabilitazione per quanto riguarda gli ipovedenti e quindi è una riabilitazione a 360 gradi.